L'Internet Festival di Pisa torna dall'8 all'11 ottobre dopo un reset scelto anche come parola chiave in un contesto globale radicalmente mutato dalla pandemia di Covid-19. Nelle immagini vedete la presentazione del programma della decima edizione, nella sede della Presidenza regionale a Firenze. Per quattro giorni al festival si parlerà di epidemiologia computazionale, ovvero di matematica, informatica e big data, prestati alla medicina per predire la diffusione delle malattie. E poi etica teletecnologie, le nuove sfide dell'intelligenza artificiale, lo smart working, catapultato nella vita di milioni di lavoratori dall'emergenza coronavirus, l'accesso a internet come diritto di portata costituzionale. La regione nei prossimi cinque anni investirà molto perché tutto il territorio della Toscana venga coperto, sia attraverso il collegamento delle fibre ottiche, ovvero della banda larga, della super banda larga, sia attraverso il collegamento online, attraverso i ripetitori, perché sappiamo bene che sotto questo aspetto larga fascia del territorio è stata lasciata scoperta. Per la Toscana un messaggio da parte mia è che nel rapporto e nella valorizzazione della Toscana diffusa vi è il concetto anche di una Toscana sempre più connessa. Nei quattro giorni dell'edizione 2020 sono in programma eventi in dieci luoghi diversi della città, dal vivo e in streaming, con fulcro al centro congressi Le Benedettine. La regione toscana presenterà due progetti europei sulla diffusione dell'utilizzo dei dati per gestire territorio e turismo. L'obiettivo è continuare a indagare la rete, ora più che mai al centro dell'agenda di governo. Il programma che è stato stilato e l'organizzazione che è stata anche quest'anno affidata alla Fondazione Sistema Toscana tiene conto proprio di questo aspetto, cioè cercare sempre di conoscere in anticipo la fenomenologia del web, ma al tempo stesso cercare di diramare il più possibile in modo concreto, attivando tutti i recettori della cittadinanza digitale. finalmente se ne è reso conto il singolo cittadino, il singolo utente, più e meglio di sempre di questa esigenza. L'Internet Festival anche quest'anno è promosso dalla regione e dal comune di Pisa in collaborazione con molti altri enti e istituzioni universitarie. Progettazione e organizzazione sono a cura della Fondazione Sistema Toscana.